Milano Pavia News, edizione Milano. Buonasera, ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. I no green pass di Milano scenderanno di nuovo in piazza sabato con un presidio statico all'arco della pace. In città cresce l'allerta, prevista un'intensificazione dei controlli in centro. La Lombardia resterà in zona bianca anche la prossima settimana, lo ha reso noto la regione. Intanto la procura di Milano chiede il processo per il presidente Fontana per il caso Camici. Il super green pass a Milano ha previsto i controlli di pattuglie miste ATM Polizia sui mezzi pubblici. Il sindaco Sala lancia un appello, serve anche il buonsenso dei cittadini. A Corsico è prequisita l'abitazione di un cinquantenne accusato di stalking. L'uomo dopo un primo sequestro aveva ricostruito un arsenale casalingo, per lui scatta anche il divieto di avvicinamento. A Milano, dopo lo stop dell'anno scorso, torna il tradizionale mercatino di Natale in piazza Duomo. 64 gli espositori che partecipano in piazza, allestita anche la casa di Babbo Natale. Scenderanno di nuovo in piazza sabato 4 dicembre in un presidio statico all'arco della pace i no green pass di Milano che per il ventesimo weekend di fila protesteranno contro il certificato verde. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore in questura, un preavviso firmato da un esponente del comitato no green pass di Milano, lo stesso movimento che ad inizio novembre aveva per protesta contro le forze dell'ordine annunciato lo scioglimento. L'appuntamento del prossimo 4 dicembre si terrà ancora all'arco della pace dove già il weekend scorso si era tenuto un evento organizzato dai no green pass. Secondo il comitato i presenti dovrebbero essere intorno alle 500 persone e l'orario sarà dalle 16 alle 20. Ma proprio come sabato scorso, quando mentre era in corso il presidio all'arco altri manifestanti si erano presentati per un corteo improvvisato con circa 200 persone tra piazza Duomo e via Torino, anche per questo weekend dalla questura ci sarà un'attenzione speciale alle vie del centro dove comunque rimangono in vigore le regole stabilite dalla prefettura che vietano ogni manifestazione non preavvisata in città. Regole che nelle ultime due occasioni hanno infatti funzionato con gli attivisti che si sono presentati in piazza Duomo e in piazza Fontana che sono stati subito bloccati dalla polizia per poi venire identificati e denunciati. L'attenzione rimane comunque ancora molto alta perché è molto probabile che i no green pass tornino ad occupare il centro anche questo sabato. In più a spaventare è la possibilità che per la prima della scala del prossimo 7 dicembre i contrari al certificato verde possano organizzare qualche tipo di protesta o manifestazione per bloccare il centro. La procura di Milano ha chiesto il processo per il governatore Antilio Fontana nell'inchiesta sulla fornitura dei camici dell'azienda del Cognato durante i mesi della pandemia, vi ricorderete. Dopo la chiusura delle indagini notificata lo scorso luglio i PM Paolo Filippini e Carlo Scalas hanno atteso che gli indagati presentassero memorie difensive o chiedessero di essere interrogati. Poi è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio alla giudice per l'udienza preliminare, una richiesta di processo che oltre al Presidente della Regione convolge altre 4 persone indagate per frodi in pubbliche forniture. Con Fontana ci sono anche infatti Andrea Dini che è imprenditore di Dama Spa e cognato di Fontana, Filippo Bongiovanni ex numero 1 di Aria Spa, la centrale acquisti del Pirellone, Pierattilio Superti vicario del segretario generale di Regione Lombardia e Carmen Schweigel direttrice acquisti di Aria Spa. Alla base dell'inchiesta della Procura il presunto accordo collusivo tra Dini e Fontana per il quale si anteponevano all'interesse pubblico l'interesse e la convenienza personale del Presidente di Regione Lombardia. Intanto però Fontana ha annunciato che Regione Lombardia anche per la prossima settimana sarà in zona bianca, nonostante crescano ricoveri e contagi, questa crescita è inferiore rispetto a quella della settimana precedente. Sentiamo. La Regione non cambia colore, la Lombardia sarà in zona bianca anche la prossima settimana. L'annuncio è arrivato giovedì pomeriggio dal Governatore Attilio Fontana che ha chiarito come in vista del monitoraggio di venerdì Milano e altri capoluoghi non corrono nessun rischio di passaggio in zona gialla. Nonostante i numeri assoluti di ricoveri e contagi aumentino, quelli che saranno valutati dalla cabina di regia e l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute mostrerà una percentuale di crescita inferiore rispetto alla settimana precedente. La progressione dei contagi, per esempio, si è dimezzata passando da 59,2% a 27,4% ha dichiarato Fontana. Inoltre, per rispondere al nuovo aumento dei contagi e dei ricoveri, oltre a continuare a premere il piede sull'acceleratore, dalla Regione hanno anche deciso di rendere nuovamente operativo l'ospedale in fiera aperto l'anno scorso. Intanto l'AIFA ha approvato il vaccino anti-Covid per bambini dai 5 a 11 anni, con un terzo del dosaggio di Pfizer. Corre così la campagna vaccinale. In Lombardia il 90,9% della popolazione Target ha ricevuto la seconda dose di vaccino contro il Covid, lo comunica Attilio Fontana, presidente della Regione. La Lombardia dice continua spedita nella campagna vaccinale, unica strada davvero efficace per continuare ad evitare le restrizioni. La soglia del 90% era stata raggiunta il 24 novembre. L'altra notizia è che al 2 dicembre 1.210.000 lombardi, ovvero il 13,3%, hanno ricevuto anche la terza dose. Un altro risultato ritenuto importante e positivo dal governatore. Diamo un'occhiata adesso alla situazione della campagna vaccinale, ma anche dei contagi in Lombardia e in Italia con le nostre grafiche. Lo vedete, le dosi somministrate ieri a livello nazionale sono state più di 430.000, in Lombardia sono state quasi 68.000. Per quanto riguarda i nuovi positivi ogni 100.000 abitanti, i numeri che crescono costantemente, a livello italiano siamo a quota 150, 148 in Lombardia, 152 nel milanese, 121, nuovi positivi ogni 100.000 abitanti in provincia di Pavia. Intanto si avvicina il 6 dicembre, data in cui scatteranno anche le restrizioni legate al Super Green Pass. Per quanto riguarda Milano, sui mezzi pubblici la Prefettura ha annunciato una serie di controlli, perché il Super Green Pass servirà anche per prendere i mezzi pubblici e ci saranno controlli composti da squadre miste di operatori ATM e Forze dell'Ordine, Polizia, Carabiniere, Guardia di Finanza. Mancano solo pochi giorni, in vista del 6 dicembre, quando entrerà in vigore il nuovo decreto del Super Green Pass per mettere a punto il piano di controlli rafforzati sui mezzi di trasporto pubblico, dove per accedervi bisognerà essere vaccinati, guariti o avere un tampone negativo. Mercoledì, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Renato Saccone, sono emerse le prime indicazioni di come avverranno i controlli su autobus, tram e metropolitana. Da un lato, l'orientamento in Prefettura è quello di creare delle squadre miste, composte da personale ATM e agenti delle Forze dell'Ordine. In tal modo, i funzionari ATM potranno chiedere di verificare il Green Pass solo quando saranno affiancati da polizia, carabinieri o vigili. Dall'altro, le verifiche a campione avverranno prima di salire sui mezzi, quindi alle fermate o ai tornelli, con l'obiettivo primario di prevenire che chi non ha il Green Pass salga a bordo, piuttosto che punirlo dopo. Ma i controlli non si intensificheranno solo su busse metropolitane, ma anche nelle zone della Movida, perché sempre dal 6 di dicembre, per poter accedere ai ristoranti locali, bisognerà avere solo il Green Pass rafforzato. Secondo il piano già utilizzato dalla Prefettura, la città verrà divisa in zone che verranno assegnate alla competenza delle diverse forze dell'Ordine, ma non solo, per il Prefetto sarà necessario coinvolgere le associazioni di categoria, dai commercianti ai ristoratori, per un richiamo al senso di responsabilità nell'applicazione delle norme. E anche il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato di questi controlli, specificando che per la maggior parte si tratterà di controlli a campione, ma anche chiesto una mano al buon senso dei milanesi. Sentiamo. I controlli sui mezzi pubblici dopo l'entrata in vigore del Super Green Pass, che sarà attivo dal prossimo 6 dicembre, saranno a campione. Lo ha confermato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale in Piazza Duomo a Milano, dopo averne parlato con il Prefetto Renato Saccone. E il Sindaco fa un appello al buon senso dei cittadini. Ne abbiamo parlato col Prefetto anche ieri. Controllo è campione, perché di più non si potrà fare, con attività mista tra personale di ATM, personale di forza pubblica e vigili. Chiamo a tutti a un appello al buon senso, perché ripeto, soprattutto in queste frangenti, se dovessimo fare un controllo a tappeto paralizzeremmo il traffico sul trasporto pubblico, quindi tanto buon senso, però controlli ne faremo. Intanto scatterà venerdì 3 dicembre lo sciopero politico plurisettoriale dei trasporti indetto dalle organizzazioni sindacali UGL Autoferro e UGL Ferrovieri contro l'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro, che secondo i promotori comporta l'insorgere di reale e tangibile discriminazione tra lavoratori e nell'organizzazione dei turni. A Milano le linee ATM, comprendenti metropolitana, autobus e tram, potrebbero subire interruzioni o riduzioni delle corse nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22, mentre Trenord ha informato che lo sciopero sulle linee ferroviarie sarà dalle 9 alle 17. La cronaca adesso ci porta a Corsico nell'Interland, dove è scattato un nuovo sequestro nei confronti di un cinquantenne che è indagato per stalking e che si era già costruito un arsenale in casa, dopo un primo sequestro si era comprato, comunque era entrato in possesso di nuove armi, coltelli, macete ed altre lame e per lui è scattata una nuova perquisizione. Sentiamo. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa la polizia locale di Buccinasco ha eseguito l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dei Milano nei confronti di un cinquantenne di Corsico, indagato per stalking verso una donna di Buccinasco. Dopo il primo sequestro di un vero e proprio arsenale che l'uomo teneva in casa, questi se ne era procurato un altro. Ancora una volta lame, maceti, coltelli di ogni forma e misura non gli era bastato. L'esito della prima perquisizione degli uomini del comandante Gianluca Sivieri subito dopo il maxi sequestro, infatti, l'uomo si è procurato altre armi. La misura è stata adottata dopo un'approfondita attività investigativa svolta dalla polizia locale a seguito della querela presentata dalla donna. Dopo aver sporto diverse denunce alle forze dell'ordine, nelle scorse settimane questa ha deciso di rivolgersi alla polizia locale di Buccinasco che ha immediatamente avviato le indagini. In breve tempo ha individuato lo stalker. Nel frattempo la vittima, Barbara Massa, infermiera e attrice di Buccinasco, ha deciso di rivolgersi ad altre vittime di molestie per incoraggiarle a denunciare subito e sempre. Io mi sono rivolta al sindaco Rino Pruiti dopo aver sporto due denunce, ha detto, e poi alla polizia locale. Ho trovato persone disponibili che si sono letteralmente prese cura di me. Non mi hanno fatto sentire sola. L'ordinanza del GIP di Milano, dichiara il sindaco, dimostra quanto sia importante la collaborazione tra le istituzioni per agire con efficacia e in tempi brevi. Oggi sono particolarmente orgoglioso dei nostri agenti che mai si sottraggono al proprio dovere e all'attenzione per i più fragili. La polizia locale ancora una volta ha dimostrato di essere un'eccellenza del nostro territorio. Adesso torniamo a parlare di sanità, ma non per parlare di Covid e bensì di demenza, una patologia che è in crescita in Italia e in Lombardia e di cui ancora si parla purtroppo poco. C'è circa un caso ogni tre secondi nel nostro paese, negli ambulatori della Fondazione Mondino vengono curati circa 1200 pazienti all'anno. Le ultime stime parlano di un nuovo caso ogni tre secondi. La demenza è considerata una priorità di salute pubblica da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è un tema che tocca da vicino anche l'Italia e la Lombardia. Negli ambulatori della Fondazione Mondino vengono visitati circa 1200 pazienti all'anno, parte dei quali sono ricoverati per accertamenti e cure. Le attività del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze si svolgono a Pavia e anche a Milano, al Mondino Health Center di Via Boscovici, in zona stazione centrale. Abbiamo parlato di questa patologia con il professor Alfredo Costa, docente di neurologia all'Università di Pavia e responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del Mondino. Professore, qual è l'incidenza delle malattie come la sindrome di Alzheimer? La demenza rappresenta, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una priorità mondiale di salute pubblica. Abbiamo nel mondo in questo momento circa 40 milioni di persone affette da demenza, la maggior parte delle quali, oltre il 60%, è affetta da malattie di Alzheimer. Una patologia quindi con dei risvolti sia sulle famiglie che sui servizi sociosanitari estremamente elevati. Il nostro paese e in particolare la provincia di Pavia e la Lombardia non fanno eccezione. Abbiamo un quadro di deterioramento cognitivo più o meno grave in circa il 10% degli ultra 65 anni e un numero in continua evoluzione di pazienti con demenza e con malattie di Alzheimer dovuto essenzialmente all'aumento dell'età media. Come si arriva alla diagnosi e quali sono le terapie disponibili? Per una diagnosi di deterioramento cognitivo o più in particolare di demenza è necessario una serie di accorgimenti che fanno parte dell'iter recentemente modificato alla luce di alcune acquisizioni degli ultimi anni. Era possibile prima, fino a qualche anno fa, fare diagnosi di malattia di Alzheimer solo probabile. Oggi possiamo farlo invece nel paziente in vita, utilizzando alcune possibilità che ci dà la tecnologia, non soltanto dal punto di vista clinico, neuropsicologico, ma anche tecniche di imaging avanzato. Presso il nostro istituto, l'Istituto Mondino di Pavia, è disponibile questa possibilità, essendo un centro avanzato di secondo livello, per giungere ad una diagnosi che sia non soltanto precisa, cioè che essenzialmente rifletta i meccanismi patologici sottostanti alla malattia, ma anche per una diagnosi precoce o quantomeno tempestiva, cioè che consenta di mettere in atto quei provvedimenti farmacologici e non farmacologici che si stanno affacciando anche sempre più in maniera promettente nel panorama sia internazionale che, speriamo presto, nazionale. Andiamo a Corbetta adesso, dove la crescita dei contagi ha spinto il Sindaco Marco Ballarini a modificare l'ordinanza che già obbligava l'uso della mascherina all'aperto in certi casi. Ora bisognerà indossarla anche davanti alle scuole e in occasione degli eventi e del famoso mercato della piazza, ovviamente tutti i casi in cui si verificano assembramenti. Vediamo. Aggiornamento sull'ordinanza del Sindaco di Corbetta Marco Ballarini che ha deciso, primo fra i sindaci del Magentino, di imporre l'uso della mascherina all'aperto in tutte le situazioni in cui si possano verificare assembramenti. A Corbetta, anche se non gravi, sono 68 i positivi al Covid. Così, nell'ordinanza, alle celebrazioni del Natale si aggiungono anche altre occasioni di potenziale rischio come l'uscita dei bambini dalle scuole. Sto per firmare un'ordinanza sindacale che impone all'aperto in alcuni luoghi l'utilizzo delle mascherine. Mettiamo l'obbligo della mascherina al mercato settimana e sabato durante gli eventi dell'amministrazione comunale per Natale e poi soprattutto fuori dalle scuole. Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina durante gli eventi di Natale del Comune nella piazza e sul corso, quindi per esempio il 4 e il 5 dicembre prossimo 21, vi ricordo quella è 4, il 4 dicembre sabato 4 alle ore 17 accenderemo l'albero di Natale. Ecco lì sarà obbligatorio l'uso della mascherina perché ci aspettiamo che questa giornata sarà bella, ci siano tanti amici che verranno, tanti bambini che verranno ad accendere insieme a noi l'albero di Natale. L'uso della mascherina è anche sì obbligatorio al mercato settimanale, ecco sapete che a tutti piace andare al mercato di Corbetta a comprare quattro cose, ecco però spesso è un luogo in cui si assemblano le persone, ecco allora abbiamo pensato di mettere l'obbligo delle mascherine anche al mercato settimanale. L'obbligo, ed è molto importante, delle mascherine ci sarà anche agli ingressi e le uscite delle scuole di ogni ordine e grado all'orario di entrata e di uscita ai ragazzi, perché? Perché tanti nonni, tante mamme, ecco si accalcano, si avvicinano tanti insieme davanti al cancello della scuola per portare o prendere il proprio figlio, la propria figlia, il problema è che oppure se sta tanto in compagnia diciamo a chiacchierare insieme, però si sta un po' vicini e allora è un po' un problema, sapete che la scuola è un momento in cui sta creando un po' di problemi, c'è la solita confusione anche a livello di Stato, di Governo, di Legi, dove prima si favorisce la lezione non in DAD, quindi si favoriscono comunque i tamponi rispetto al fatto di chiudersi subito in casa in quarantena, quindi fino al terzo positivo si deve rimanere in classe, ecco l'altro giorno ancora, mi sono sentito l'altra sera con la preside, ancora si è fatto un passo indietro con un positivo, ricomincia la DAD, insomma hanno capito che la maggior parte dei nuovi contagi passava attraverso i bambini che non erano vaccinati. Ora vi raccontiamo una storia simpatica, quella di Max e Berla che sono due cani, due pastori tedeschi addestrati dall'unità cinofila dei carabinieri a riconoscere il Covid attraverso il loro fiuto, vediamo. Si chiamano Max e Berla, due pastori tedeschi e sono i primi due cani utilizzati per il progetto avviato nella primavera 2021 dall'Università degli Studi di Milano e l'arma dei carabinieri per l'impiego di cani del centro cinofili di carabinieri di Firenze per l'individuazione di soggetti affetti da Covid-19. Inizialmente le unità cinofile hanno operato su campioni di garze impregnate di sudore prelevato a persone affette da Covid e a soggetti già risultati negativi al tampone molecolare. Contando sulle capacità olfattive dei cani addestrati nel distinguere gli odori, Max e Berla sono così stati indotti a fiutare i pazienti infetti. L'addestramento si è svolto in un'area interna dell'ospedale Sacco, priva di possibili distrazioni e soprattutto esente da potenziali fonte di contaminazione olfattiva. Le persone volontarie interessate allo studio sono tutti pazienti ricoverati presso l'unità di malattie infettive dell'ospedale Sacco con documentata positività al tampone molecolare rinofaringeo. I campioni sono stati approntati con garze sterili asportando il sudore della zona scellare e inguinale con le dovute cautele sanitarie. Ogni prelievo è stato eseguito in condizioni di sterilità del campione evitando qualsiasi rischio di contaminazione. Da aprile 2021 a ottobre 2021 sono stati utilizzati 427 campioni di sudore appartenenti a 127 pazienti di età compresa tra i 21 e gli 86 anni di cui 54% di sesso femminile e 46% di sesso maschile. I cani hanno individuato i positivi a prescindere dal sesso e dalla carica virale poiché il loro impiego si è focalizzato sull'individuazione e memorizzazione dello specifico odore da ricercare. La successiva fase addestrativa ha interessato la discriminazione di altri odori presenti nel campione escludendoli dalla memoria olfattiva del cane come ad esempio la plastica del contenitore sterile, i dispositivi di protezione individuale del personale sanitario e il materiale di cui era composta la stessa garza. Realizzata la fase dell'imprinting olfattivo dei due cani si è passati alle prove su individui positivi al covid-19 presso il lab tamponi dell'ospedale Sacco. Gli esiti della sperimentazione in atto rappresentano così un primo step di ricerca da consegnare al comando generale dell'arma per le valutazioni che riterrà di sviluppare con gli organi istituzionali centrali in funzione delle esigenze di sicurezza dei cittadini. In piazza Duomo a Milano torna al tradizionale mercatino di Natale, un segnale anche di ritorno alla normalità per i cittadini, saranno una sessantina gli espositori che porteranno le loro merci nelle baite rosse allestite proprio nel centro di Milano. Mercoledì mattina sono arrivate in piazza Duomo le 65 deliziose baite impreziosite da lucine e decorazioni che danno vita al tradizionale mercatino di Natale promosso da Confcommercio con il patrocinio del comune. Qui fino al 6 gennaio tutti i giorni, dalle 8.30 alle 22, mascherina obbligatoria, è possibile acquistare gli addobbi più originali per l'albero, le statuine del presepe e poi tantissime idee regalo, dalle creazioni artigianali ai capi d'abbigliamento e tanto cibo. Per i piccoli poi un appuntamento imperdibile. In piazza Duomo troveranno la casa di Babbo Natale con la cassetta per le lettere. Facendosi aiutare da mamma e papà potranno scrivere la letterina e poi ritirare il regalo dalle mani di Santa Claus la mattina del 25 dicembre. Siamo veramente contenti, il mercatino di Natale qui al Duomo per noi è una grossa occasione per esporre i nostri prodotti e farli conoscere. L'anno scorso infatti pur non avendoli fatti siamo stati in difficoltà e siamo veramente contenti appunto di poterci ripresentare in questa bellissima location. Con la pandemia tutta questa pausa è stata proprio difficile da superare. Com'è stato l'anno scorso che non avete potuto dare ai cittadini milanesi la possibilità di assaggiare i vostri prodotti? È stato triste sia per noi perché comunque è una tradizione ormai veniamo a tantissimi anni e sia non poter accontentare i nostri clienti che ci aspettavano e anche loro hanno sofferto. Finalmente i mercatini di Natale ritornano in presente. Era veramente ora, sono contenta devo essere sincera. Siamo ancora comunque in un periodo di emergenza, speriamo nella collaborazione di tutti. È l'unica cosa che posso dire difatti. Però c'è comunque fiducia, positività. Sì assolutamente assolutamente anzi vedo che comunque le persone si fermano, sono interessate, hanno voglia di spendere quest'anno e quindi venite pure alle nostre bancarelle che vi aspettiamo con braccia aperte e un sorriso, come dire, proprio di felicità. Adesso cosa vi aspettate da questo Natale? Riprenderci, nel senso vendere tanto e essere felice e poter concludere l'anno in un modo decente. Mi aspetto una crescita, una ricrescita, un momento di gioia, di sorrisi dove si possa di nuovo uscire per le strade e passare dei momenti felici e piacevoli. Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale e buon anno! È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, adesso c'è qualche minuto di pubblicità, poi noi ritorniamo con l'edizione Pavia, tra poco.